Sono le otto del mattino, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Omnibus. Come vedete questa mattina ho addirittura due ospiti in studio con me. È una rarità in questo tempo di Covid che sta fra l'altro rialzando la testa. I giornali ce ne parlano molto, non è di questo però che ci occuperemo stamane. Stamane torneremo a parlare di Yuskole cercando di capire un po' più nel merito, nel dettaglio di che cosa si tratta e perché questa legge della quale si discute, o meglio della cittadinanza, perché lo Yuskole è un'evoluzione di altri tipi di leggi che sono state immaginate, si discute, vi dicevo, però ormai da tanti anni senza arrivare a una soluzione. C'è sempre qualcuno che dice che non è il momento, ci sono altre priorità che in un certo senso è anche vero, ne abbiamo sempre una, anzi adesso potremmo dire che con il Covid, la siccità e la guerra, è però possibile che non ci sia mai il momento in vent'anni che ne stiamo parlando? Oggi cercheremo di capire qualche cosa di più. E lo faremo intanto con gli ospiti che vi presento in studio, allora l'avvocato Sara Chelani, della Voce del Patriota, benvenuta, e l'avvocato Hilary Sedum, viene da Napoli e è stato uno degli ispiratori giusto di questa legge, quindi ne sa parecchio. Così come ne sanno sicuramente molto perché ne dibattono e ne discutono anche l'onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Salve, e l'onorevole Rossano Sasso che è anche sottosegretario all'istruzione della Lega, buongiorno, sottosegretario, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie, buona domenica a lei. Collegata con noi c'è anche Milena Santerini che si occupa di scienza dell'educazione alla Cattolica di Milano, buongiorno professoressa. Buongiorno, allora io chiederei subito a Hilary Sedum, visto che appunto abbiamo detto che lei è l'ispiratore, o meglio uno di quelli che a un certo punto ha detto vabbè proviamo a scriverla questa legge e poi è andato a cercare un interlocutore politico a cui presentare. Ci racconti quindi l'origine, com'è nata e come l'avete pensato? Sì, in sostanza io insieme a qualche amico e qualche associazione ho pensato che effettivamente ci sono stati anni di bagarre in merito alla riforma della legge sulla cittadinanza e chi voleva lo Iussoli che era uno dei criteri papabili che poi non è mai passato in Parlamento, non è stato mai accettato, poi c'è stato lo Iussculture e adesso infine lo Iuscole. Esatto, lo Iuscole è una derivazione dello Iusculture di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Lo Iuscole è una linea mediana con dei criteri oggettivi. L'oggettività sta nel fatto che il bambino che è nato o cresciuto sul suolo italiano, che ha frequentato la scuola, la scuola laddove effettivamente nasce l'identità e la cultura italiana, deve essere riconosciuto cittadino italiano, ma non per concezione, perché la concezione della cittadinanza è una cosa perché riguarda il potere e la discrezionalità dello Stato di concedere la cittadinanza, ma di riconoscere che questi ragazzi nascono all'interno del nucleo predominante italiano per i quali non è possibile applicare una politica di integrazione sociale. Ce la spiega meglio questa cosa qua? Ce la spiega meglio? Perché per qualcuno non è così chiara. È talmente poco chiara che viene contestata. Sì, in sostanza lo Iuscole non dice altro che nasco in Italia oppure ci arrivo in un'età dove il diritto italiano ritiene che un soggetto non possa essere imputabile. Ok, cioè entro i 12 anni. Entro i 12 anni. Diciamo le cose in modo che si capiscano proprio bene. Entro i 12 anni. No perché già, scusi se la interrompo, ma il fatto di usare i termini che afferiscono diciamo così alla cultura legale, Ius culture, Ius soli, Ius sanguinis, non per tutti sono così chiari, no? Quindi significa cittadinanza per diritto di nascita o cittadinanza perché i tuoi genitori sono due italiani, due pakistani, due... insomma quello... no? Ecco, perché questo vuol dire... non è così chiaro per tutti. È che si può riconoscere l'italianità all'interno di un bambino, nelle sue espressioni, nell'addominio della lingua italiana, nella sua cultura, anche scindendo soprattutto il legame con i genitori di origine, dal punto di vista della cittadinanza. Perché stiamo parlando di ragazzi che hanno vissuto esclusivamente in Italia, sotto esclusiva giurisdizione italiana, che padroneggiano e dominano la lingua italiana, soprattutto nelle forme idiomatiche. E come facciamo noi a dire che un ragazzino nato a Napoli o cresciuto a Napoli o a Palermo o a Milano, che parla fluentemente e ragiona la lingua del suo pensiero, è quel dialetto oppure l'italiano? Come facciamo noi a negare la cittadinanza a questa persona? Allora, lei ha toccato forse il punto più importante. Cioè lei dice che la scuola o comunque l'ambiente esterno sono quelli che più condizionano rispetto alla famiglia. Quindi proprio per questo si dovrebbe poter ragionare di una possibile cittadinanza. E allora io voglio sentire subito il nostro sottosegretario Sasso, l'onorevole Sasso, perché lei appunto ha anche questa delega importante, sottosegretario all'istruzione, quindi dovrebbe essere contento in un certo senso del rilievo che viene dato all'istruzione e alla scuola. Eppure il suo partito, la Lega, è quello che più di tutti si oppone. Oggi i giornali ci raccontano di una presa di posizione importante anche della CEI, fra un attimo ne parleremo, e molti giornali intervistano l'onorevole Polverini, che è di Forza Italia, che ieri ha detto rispetto al mio partito io vorrei comunque votarla, questa legge propone un aggiustamento, poi lo vedremo, però comunque prende una posizione precisa. La Lega invece no, addirittura 1500 emendamenti, alcuni dei quali anche abbastanza, insomma, posso dirlo ridicoli essere interrogati sulle sagre del carciofo, ma neanche gli italiani. Allora cercherò di essere il più chiaro e il più sintetico possibile, perché il tema non è all'interno dell'agenda di governo, ma sta diventando un tema di mente, perché evidentemente quando ci sono partiti con diverse sensibilità che compongono lo stesso governo di unità nazionale, e parte di quei partiti decidono, come in questo caso, di anteporre i desideri, i problemi degli immigrati a quelli degli italiani, è chiaro che c'è qualcosa che non va. Lei ha parlato di scuola, giustamente. Allora, dottoressa Fratello, non a lei, ma all'avvocato Sedu nemmeno, perché immagino che sia parte della sua attività professionale, ma a chi ci sta seguendo in questo momento da casa, io ricordo che in Italia lo Ius Soli in qualche modo è già previsto, ed è previsto dall'articolo 9,1 lettera F della legge 92 del 1991, ok? Cosa dice questa legge? Lei sta dicendo che secondo lei esiste già la possibilità di avere la cittadinanza se nasci, perché Ius Soli significa che prendi in automatico la cittadinanza se nasci nel nostro paese, questo è lo Ius Soli. C'è solo una differenza con la proposta di PD e Movimento 5 Stelle, che loro vorrebbero ridurre a 5 anni di scuola, ecco perché l'hanno chiamata Ius Scuole, la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana, mentre per noi va bene quella che già c'è. Cosa dice attualmente la legge? Che dopo 10 anni e soprattutto al compimento del diciottesimo anno di età, il cittadino possa chiedere di acquisire la cittadinanza italiana. Ma do un elemento in più, perché la Lega si oppone a questa proposta, al di là del fatto che in questo momento immagino che i tanti italiani che ci stiano seguendo non è che non dormano la notte se le proposte del PD, dal DDL ZAN al, peggio mi sento, legalizzazione delle droghe leggere o allo Ius Scuole non vadano in porto. Io penso che gli italiani che ci seguono da qua in questo preciso istante la maggior parte dei pensieri, delle preoccupazioni, sia dovuta alle bollette, al pieno benzina, alle cartelle sattoriali, a tutto quello che potrebbe succedere da qui a breve. Ed è dai responsabili provocare una parte della maggioranza con temi che sono di bandiera. La Lega ha 16 mesi che in maniera responsabile porta avanti l'agenda di governo mandando giù anche bocconi amari. Ma non ci saremmo mai sognati di proporre delle iniziative di bandiera. Detto questo, l'Italia oggi è qui anche per rispondere a chi legittimamente dalla conferenza episcopale italiana, nella fattispecie il capo della fondazione Migrantes, Monsignor Perego, dice che l'Italia non è solidale, non è inclusiva. Beh, do una notizia anche al Monsignor Perego, l'Italia è al primo posto all'interno dell'Unione Europea come numero di cittadinanza, le leggo il dato, 131 mila. Dice anche Molteni, il suo collega di partito questa mattina. Quindi smettiamo con i fatti. Un altro dato fondamentale è questo, che nella proposta di PD e Movimento 5 Stelle la cittadinanza praticamente si regalerebbe senza alcun esame e controllo. Questo che cosa vuol dire? Che noi potremmo dare la cittadinanza italiana anche a dei delinquenti, anche a quelli che a peschiera dei gatti, lei sta facendo un gran mischione, scusi se mi permetto, perché lei dice i delinquenti, noi stiamo parlando di ragazzini che hanno finito un ciclo scolastico e che si presume che abbiano anche fatto... No, 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 in Italia la scuola dell'obbligo, mi segue? Sì. Dura fino a 16 anni, la proposta del PD prevede solo 5 anni, lei mi deve dare la possibilità di spiegare agli italiani che attualmente ci sono degli esami e dei controlli, attualmente per diventare cittadino italiano un immigrato non deve avere condanne penali, deve dimostrare di avere una residenza stabile, deve dimostrare di avere anche un patrimonio. Questo che cosa vuol dire? Il legislatore... Sì, mi direi che sia impossibile, onorevole Gribaudo, state provocando, sapete... Se non riesco a terminare, se non riesco a terminare... Guardi, abbiamo un'ora e un quarto di tempo, avrà tutto... Ma il dato di rimente è proprio questo, perché si lascia passare per pochi piccoli... Non metta tutto insieme, perché tutto insieme, non si riesce a capire, tutto insieme, non si riesce a capire. Facciamo un pezzetto alla volta, perché lei ne ha messi insieme tante di cose e sono abbastanza sicura che molti dei miei ospiti vorranno ribattere. Partiamo dall'onorevole Gribaudo. Una cosa alla volta. Allora, è una provocazione la vostra? Agli italiani non interessa niente? Assolutamente non è una provocazione, è una discussione parlamentare. L'onorevole Sasso dovrebbe distinguere bene, visto che sta al governo, la differenza tra le iniziative parlamentari, di una legge vecchia più di 30 anni, e le iniziative del governo. Questa è molto sbagliato dire che non ci stiamo occupando delle bollette, del caro benzina, dei problemi degli italiani, perché lo stiamo facendo, lo sta facendo il governo, e parallelamente, perché per fortuna ci sono molte commissioni parlamentari, il Parlamento si occupa di più cose, tant'è che mentre in aula si discuteva dello Iuscole, la commissione bilancio dava al dia al decreto aiuti, che infatti voteremo la prossima settimana, a differenza dello Iuscole, perché nel dibattito il Partito Democratico, proprio perché vuole trovare un accordo, anche al ribasso rispetto alla nostra iniziativa parlamentare, che per l'appunto era leggermente diversa. Noi stiamo andati incontro, anche grazie al lavoro dell'onorevole Brescia, che è il presidente della commissione del Movimento 5 Stelle, e che ha fatto una proposta che tenga insieme le varie proposte di legge, di cui stiamo discutendo questa mattina, noi siamo disponibili a ragionare per un accordo, ma non è possibile, mi perdoni, che di questo tema, che riguarda la vita di 800 mila circa bambini nati e cresciuti in Italia, che vanno a scuola con i nostri figli, che giocano con i nostri figli, che vivono nel nostro paese, noi non ne discutiamo mai. Per il centro-destra, per la Lega, per Fratelli d'Italia, non è mai il momento. Gribodo, però lei sarà d'accordo che, diciamo, questo è un momento in cui sicuramente il governo sta vivendo un momento di particolare stress, lo abbiamo visto in questi giorni, le tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle, l'accumularsi di problemi dalla guerra, dicevamo, alla siccità, al caro energia, alle bollette. Qualcuno sostiene, non so se ha torto a ragione, che appunto mettere altro benzina sul fuoco forse non è la cosa migliore da fare, non che il problema non ci sia, che il tema non ci sia, ma insomma viene vissuta come una provocazione. Ma non è una provocazione, perché questo argomento, anche qui ci tengo, ricordiamoci che il Parlamento va avanti col proprio lavoro e com'è giusto che sia, si è arrivati dopo una discussione durata anni in prima commissione a una quadra tra le forze politiche, a una proposta di mediazione. E guardi che è stata rinviata, abbiamo fatto un voto giovedì mattina proprio per dire, rinviamo la discussione per trovare, se possibile, con chi vuole un accordo. Siamo ancora disponibili a ragionare. Lei dice trovare un accordo, però guardi, oggi appunto l'onorevole Polverini di Forza Italia dice per l'appunto, dice che lei comunque la voterebbe questa legge, però se venisse fatta una modifica ulteriore, e cioè invece che cinque anni, otto anni, in modo da allungare diciamo un po' il tempo rispetto a quelli che erano i dieci anni dell'Oiusculture, diciamo che si fa una contrattazione, no? E se arriva a otto anni sarebbe meglio. Allora chiedo anche a lei, Sara Chilani, perché insomma forse si può arrivare a un accordo, per esempio, no, glielo chiedo perché Giorgia Meloni per esempio, no? All'epoca quando si parlava di Oiusculture sosteneva che fosse una cosa insomma corretta da fare, però diceva il tempo era, appunto, si parlava di un ciclo completo di studi, dieci anni, otto anni si può fare o no? Il problema, via preliminare, il fatto che il tema sia divisivo lo dimostra la loro litigiosità sul punto. Ciò detto, il problema non è tanto la possibilità di mediazione, di trovare un accordo, il problema è comprendere quali siano le criticità di questo progetto di legge, questo testo unificato che adesso ha l'esame alla Camera. Le criticità sono sostanzialmente due. La prima è quella relativa alla tempistica eccessivamente breve, perché? Come dicevamo prima, il ciclo scolastico prevede un decennio di formazione, quindi lo Stato italiano ritiene che un ragazzo sia adeguatamente formato dopo dieci anni di scuola. Questo perché? Perché la scuola, oltre a fornire necessarie competenze linguistiche, logiche, fornisce anche quei rudimenti, i primi principi di educazione civica. Quindi un ragazzo comprende, assorbe quelli che sono quello che è l'ordinamento in cui vive, diritti costituzionali. Questo l'abbiamo già capito. Cinque anni sono del tutto evidentemente eccessivamente pochi. La seconda criticità, e adesso vengo al suo tema, la seconda criticità è proprio quella dell'introduzione all'interno dell'ordinamento di un potere vincolato della pubblica amministrazione, ne parlava prima il collega Seidu. Perché la norma ti dice, dopo cinque anni lo Stato ti deve dare la cittadinanza, vuol dire che non c'è una valutazione discrezionale, no? Vuol dire che non si possono valutare se effettivamente sussistono quelle competenze linguistiche, quelle capacità anche di orientarsi. Il ragazzo probabilmente, verosimilmente, anche con tutti i problemi di mediazione culturale, non ci nascondiamo dietro... No, però io mi immagino che se hai fatto per cinque anni la scuola e soprattutto se hai dai, che ne so, dai sei ai dodici anni, la capacità dei bambini di imparare una lingua. Di solito in tre mesi la imparano, guardi, non è solo la capacità di imparare una lingua, è la capacità di comprendere quello che si vuole, perché la cittadinanza, lo diceva molto bene il collega Seidu, noi abbiamo parlato molto di questa cosa, la cittadinanza è una scelta. La cittadinanza non può essere calata dall'alto, bisogna decidere di aderire ad un determinato modello e per decidere di aderire occorre essere consapevoli del che cosa si sta facendo, ok? Posso porre un poesimo? Sì, perché a noi nessuno lo chiede però. Che cosa intende? Nessuno mi ha chiesto se volevo essere cittadina italiana. Ho capito, però lei è nata, lei poteva scegliere di essere qualcosa di altro. No, lei la può rinunciare. A me ha otto anni e nessuno mi ha chiesto se volevo essere cittadina italiana. Ma prego Seidu. No, me lo chiedo perché lei pone dei temi. Guardi che la cittadinanza italiana è una sua tutela, non è una condanna. Appunto, allora perché non lo possiamo dare agli altri ragazzini? Ma io non ho detto che non possiamo dare agli altri ragazzini. A parte che vorrei dire una cosa, che c'è la facoltà, qualora questi ragazzi dovessero avere la cittadinanza quando sono minori, c'è la facoltà di rinunciare quando saranno maggiorenni. Innanzitutto trovo sbagliato dire che bisogna fare tutte queste valutazioni perché nessuno chiede al cittadino italiano autottono, la voi la cittadinanza italiana. Nascono con quella cittadinanza. Su questo Ilari infatti. Dopodiché, chiedo scusa, termino. Trovo assolutamente sbagliato l'onorevole della Lega che parla di criminalità, di soggetti da integrare. Noi stiamo parlando di ragazzi che sono nati e che sono arrivati qua quando non sapevano neanche parlare. Quindi non possiamo, stanno in una fase che non sono giuridicamente imputabili e poi lei fa una citazione dell'articolo 9 che non esiste, non è previsto nessuno. Allora, guardi, vorrei complicare il ragionamento tecnico però. Perché ve l'ho detto, se mettiamo troppe cose insieme... No, no, era solo per dare ordine a quello che avevo detto sinora. Devo, io devo andare in pubblicità. Come vede non è una pubblicità chiamata. Io sono stato citato però vorrei replicare. Adesso, guardi, io non... Perché qualcuno dice, ah, i conduttori chiamano le pubblicità quando gli fa comodo. No, c'è un orario segnato lì, chi è in studio lo può vedere. Devo andare in pubblicità. Lo so, lo so. Ritorno fra un attimo. Ripartendo però, ve lo dico già da subito, dalla professoressa Santerini. perché comunque c'è invece, secondo me, un interesse italiano e ne voglio parlare anche con lei fra pochi minuti dopo la pubblicità. 8.26 e allora riprendiamo la nostra discussione. sapete che grazie, diciamo così, a una serie di escamotaggi parlamentari la discussione sullo Iuscole è stata, diciamo, rinviata alla prossima settimana quindi non finisce in coda a tutti gli altri provvedimenti di legge ma riesce a conquistare una buona posizione per la discussione parlamentare già la prossima settimana e questo inevitabilmente porta a una serie di fibrillazioni. Ieri è intervenuta anche la CEI su questo tema ma oggi c'è una bellissima intervista che voi potete trovare sulla stampa a pagina 8 di Monsignor Perego eccolo qua che è il presidente della fondazione di Migrantes che dice una cosa, insomma, molto chiara dice che lo Iuscole è una conquista il paese cambia basta ideologie e che, insomma, forse davvero abbiano il polso della situazione i vescovi abbiano capito che il paese cambia ce lo dimostrano anche due sondaggi che sono stati presentati qualche giorno fa da Utrend uno, ve lo faccio vedere, il primo cartello ha chiesto agli italiani eccolo qua che cosa ne pensano dello Iuscole della riforma della cittadinanza e, come vedete, un 17,5% è molto d'accordo un 41% è abbastanza d'accordo per un totale del 59% poco d'accordo per nulla d'accordo invece il 18,6% e il 15,7% poi c'è un 6,6% che non sa perché magari non conosce bene queste norme ma ancora più, diciamo, sorprendente e interessante eccola qua è la ripartizione, diciamo così, di queste preferenze per partito perché se, forse, si poteva, diciamo così, immaginare che il 41% degli elettori del Partito Democratico si dicessero molto d'accordo con la riforma con il 41% in realtà c'è un 37% per esempio della Lega che si dice abbastanza d'accordo a cui va sommato un 11% che quindi tutto sommato rispetto al 25 e il 27 che sono poco o per nulla d'accordo sono quasi la metà è altrettanto, forse un pochino più sbilanciati per Fratelli d'Italia anche qui c'è un 11% più un 24% che tutto sommato è abbastanza d'accordo professoressa Santerini dicevamo, lei si occupa di scienza dell'educazione questa capacità che dovrebbero avere i ragazzini che arrivano di assimilare tutto sommato appunto lo spirito, la cultura l'essenza dell'italianità se questa può essere definita in qualche modo si riesce a ottenere in 5 anni o è più giusto appunto tentare questa mediazione 8 che prenderebbe poi si porterebbe dietro anche un altro partito che è Forza Italia che è un po' diviso ma insomma che dice? Fatemi dire che questa riforma della cittadinanza l'Italia lo aspetta da tanto tempo ed è nell'interesse di tutti gli italiani di tutti nessuno escluso non lo dico io lo dicono in demografi perché siamo un paese invecchiato lo dicono gli economisti perché hanno bisogno di forze dinamiche di lavoro lo dice la CEI la conferenza episcopale lo dicono i vescovi lo dicono gli operatori sociali e lo dicono soprattutto quelli che si occupano di scuola come me e come tutti i pedagogisti italiani che hanno preso una posizione molto chiara è una riforma nell'interesse di tutti nessuno escluso perché a nessuno conviene tenere un'intera generazione nella precarietà perché qui stiamo parlando come è stato detto non lo voglio ripetere di bambini di ragazzi che sono nati qui che sono cresciuti qui che spesso hanno un legame molto molto più forte con l'Italia che con il paese d'origine ma d'altronde siamo in un mondo globale dove tutti noi dovremmo avere anche legami con altri paesi dovremmo conoscere altre lingue tutti anche e soprattutto gli italiani per non restare provinciali in un paese in un mondo che cambia ecco allora questa è una riforma il tema della volontarietà sì noi attualmente credo che sia un tema interessante perché lei forse ci può rispondere su questo nel senso che è davvero così importante che un bambino a otto anni o a dieci o a dodici esprima la propria volontà su una cittadinanza? ma noi abbiamo noi dobbiamo considerare il progetto migratorio di una famiglia di una famiglia intera la quale è in questo caso in questi casi in Italia e vuole investire sui figli e anche l'Italia vuole investire su quei bambini quindi il tema intanto è che la famiglia che sceglie di restare che sceglie di investire e tutti gli studi pensate ci dicono che c'è un cosiddetto vantaggio di cittadinanza cioè quando la famiglia ha un obiettivo sa che resterà in un paese che il figlio potrà dare il meglio diciamo della sua vita in quel paese tutto questo è associato a un maggiore successo scolastico a una maggiore continuità negli studi cioè in altre parole chi investe in una situazione precaria nessuno ecco allora invece quando c'è questa possibilità quindi è una scelta di tutta la famiglia e naturalmente anche del bambino intanto perché non dare a 12 anni si è liberi e il bambino ha l'opportunità di testimoniare di dire la sua in tutti i processi cioè non stiamo parlando di bambini molto piccoli ma di bambini che hanno il diritto di decidere di restare dove sono già nati e dove sono già e dove hanno studiato quindi lei la introdurrebbe questa modifica diciamo lei quindi lei introdurrebbe questa modifica cioè la possibilità appunto di chiedere al minore se è d'accordo o no allora questo è già previsto che si possa che la famiglia lo possa chiedere naturalmente anche eventualmente conservando la nazionalità di orì la doppia cittadinanza cosa che sarebbe è una cosa di grande civiltà ecco quindi in realtà non si pone questo problema non stiamo obbligando i bambini e quindi in questo caso io lascerei i cinque anni della riforma non allungherei all'obbligo anche se non mi sembra una tragedia farlo perché perché stiamo dicendo che attraverso quei cinque anni è la prova diciamo così che il bambino sta assorbendo la nostra cultura non solo ma ha un senso di appartenenza non sono troppo pochi secondo lei cinque anni no non sono affatto troppo poco stiamo parlando di bambini che pensate il 70% dei bambini della scuola dell'infanzia attuale in Italia di origine immigrata è nato in Italia il 70% quindi quando noi parliamo di stranieri a scuola stiamo parlando di bambini che probabilmente non hanno mai visto il paese d'origine quindi noi non dobbiamo essere fuori dalla realtà dobbiamo fare come tutti gli altri paesi europei e del mondo che ovviamente riconoscono addirittura noi ussoli quindi danno la cittadinanza alla nascita oppure come in questo caso la vincolano a un'appartenenza che si matura come? Con la scuola con la lingua con la storia con la letteratura ma anche con le relazioni con i coetanei perché lasciare questi bambini in un limbo lei parla di un progetto familiare ed è forse in parte anche questo una delle motivazioni che è stata avanzata da chi è contrario a questa legge dice proprio che il fatto di consentire la cittadinanza a questi bambini è una sorta di scudo poi per i genitori perché non siano espulsi no? cioè se il bambino alla cittadinanza figurati se poi buttano fuori i genitori trovo un po' bizzarra questa obiezione questa obiezione questo è il modo allora noi abbiamo visto che la maggior parte degli italiani è d'accordo è d'accordo anzi spesso si stupisce la maggior parte degli italiani si stupisce che non ci sia ancora come in tutti i paesi civili diciamo perché è convinta in realtà che un bambino nato qua ce l'abbia già e invece non è così che cos'è sono già convinti che ci sia e allora che cos'è che li scoraggia purtroppo una propaganda che dice appunto che lega questa norma di civiltà allo spauracchio del straniero delinquente lo straniero invasore dello straniero eccetera eccetera questo è contro gli interessi degli italiani una simile propaganda noi abbiamo bisogno di forze vive abbiamo bisogno di dinamismo pensate chiedetelo per favore agli industriali del nord est e del nord ovest che in questo momento sono in difficoltà perché non hanno abbastanza forza lavoro chiedetelo agli insegnanti chiedetelo appunto a chi si occupa della benessere della nostra società se appunto dobbiamo mischiare i temi fare una confusione di cui non capisco il senso con l'eventuale pericolo di qualche immigrato che può delinquere con questo tema di civiltà che è appunto riconoscere quello che è già così cioè l'appartenenza di un'intera generazione e anche di quelle precedenti che ci stiamo perdendo al nostro paese alla nostra cultura cioè lei dice sì allora stiamo perdendo in tutti i paesi in tutti i paesi le nuove generazioni specie chiedete agli insegnanti che vi diranno quanto i ragazzi di seconda generazione hanno una spinta in più per riuscire molto spesso contrappongono ahimè loro ai nostri ragazzi che sono invece demotivati magari qualche volta un pochino diciamo almeno spinta di riuscire Sassu adesso arrivo da lei arrivo da lei ma date pazienza sto sentendo un comizio senza repliche siccome c'è qualcuno che fa categorie allora ecco abbiamo un dinamismo culturale un dinamismo culturale che è già nelle nostre scuole e su questo non dobbiamo lei dice dovrebbe solo essere certificato allora sottosegretario Sasso detto che appunto anche diversi elettori della Lega in realtà sarebbero d'accordo io non ne voglio fare cioè non credo che non voglio pensare che sia solo una questione di bandierina della Lega questa opposizione diciamo così forte all'approvazione di una legge come questa però il sospetto talvolta viene allora se ho la possibilità di replicare non a uno non a due ma a tre interventi cercherò di essere più sintetico possibile siamo in cinque sì lo so ma una determinata posizione rappresentata solo dal sottoscritto va bene no 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 innanzitutto oggi scopro di essere provinciale scopro di essere provinciale mi perdoni perché io vorrei che lei leggesse i fondi che trova sulla voce del patriota dell'avvocato Sara Chelani d'accordo e troverà che ci sono delle posizioni molto simili alle sue prego posso? prego grazie ripeto scopro di essere provinciale perché secondo la professoressa il calo demografico italiano potrebbe essere risolto con l'introduzione di nuovi italiani attraverso il regalo della cittadinanza mentre per il sottoscritto che è molto provinciale magari sarebbe il caso di incentivare le nascite dando la possibilità alle coppie italiane di poter avere un lavoro dignitoso ma sono provinciale parliamo di dati concreti dottoressa Fratello i bambini stranieri hanno gli stessi diritti dei bambini italiani le do questa notizia abbiamo investito come paese non è vero che non abbiamo investito per loro è garantito il diritto all'istruzione e il diritto alla salute certo come scuola potremmo fare meglio le spiego anche perché sono tantissime le scuole soprattutto la scuola primaria la scuola elementare dove ci sono delle classi ghetto dove oltre il 60% è rappresentata da bambini che purtroppo non imparano bene la lingua glielo dico da insegnante non tutto il mondo della scuola è d'accordo con la professoressa non tutti i pedagogisti sono d'accordo con la professoressa ribadisco il rischio e quindi scusi quale sarebbe l'alternativa? l'alternativa è dare la possibilità ai bambini di integrarsi sul serio perché la cittadinanza che la sinistra vorrebbe usare come strumento di integrazione poi se va male chi se ne frega in realtà deve essere la certificazione dell'avvenuta integrazione lo scudo del genitore adulto che non sarebbe più espellibile è un dato di fatto la pedagogista chiede ai giuristi quante sentenze per il ricongiungimento familiare ci sono state fino ad oggi per i cittadini per gli immigrati allora no c'entra invece perché se un bambino di otto anni dovesse avere un papà che delinque e i dati dimostrano che sono tantissimi i reati compiuti dagli immigrati quel papà mi dispiace non regole sasso ma lei lei sta facendo io chiedo alla conduttrice di tutelarmi come sono stato zitto chiedo alla cortesiana rispetto ai ruoli di tutti allora il punto è questo faccio un caso pratico nel momento in cui il papà di un bambino dovesse delinquere oggi potrebbe essere espulso quale giudice invece con la nuova cittadinanza potrebbe dividere il figlio da un genitore ecco che quindi si realizza il disegno della sinistra di estendere con questo ius soli mascherato la cittadinanza a tutti non ci sono altri dati non ci sono altri dati se possibile no perché il ricongiungimento è quello uno dei punti fondamentali ci sono bambini che professano che provengono da famiglie che professano religioni diverse dalla nostra che per uso costume tradizioni purtroppo non sempre sono compatibili con le nostre regole per cui che male c'è a dire che il bambino che il ragazzo al diciottesimo anno di età possa acquisire la cittadinanza italiana io su una cosa sono d'accordo che effettivamente si snellisca la burocrazia affinché al diciottesimo anno di età dopo l'intero ciclo di studi il bambino che è nato in Italia possa diventare cittadino italiano in automatico possa assolutamente possa sì alla fine dell'intero ciclo di studi al compimento del diciottesimo anno di età così come accade oggi perché la scelta è professoressa adesso non è in automatico assolutamente non è vero che è così una volta che hai compiuto di potenziare la capacità amministrativa appicché diventino cittadini italiani sì ma non è così non è che sei compiuto diciott'anni diventi allora no assolutamente li sto dicendo per potenziare l'apparato burocratico affinché ciò si possa realizzare perché d'altra parte d'altra parte lo ribadisco non c'è nessuna differenza non c'è nessuna discriminazione nei confronti dei minori noi non regaliamo la cittadinanza come non la regala nessun altro paese non è vero che l'Italia è il paese dei cattivi e dalle altre parti sono tutti più accoglienti e così i numeri parlano chiaro l'Italia è al primo posto come numero di concessioni delle cittadinanze io capisco che la sinistra voglia distogliere l'attenzione degli italiani da alcuni problemi reali dove purtroppo non si riesce a trovare la quadra ed è altrettanto verosimile che il Presidente del Consiglio non si trova la quadra perché la Lega quando il Consiglio dei Ministri vota i provvedimenti quando poi va in Parlamento però cambia idea magari siete voi che dovete chiarirmi perché quando il Governo fa il Consiglio dei Ministri emana dei decreti poi arriva in Parlamento e c'è di nuovo il caos da domani la Lega non capisco perché il sottosegretario scusate se vi so racconnete però non si capisce niente abbiate pazienza allora io finisco finisco dicendo che mentre la Lega responsabilmente evita proposte divisive altrimenti da domani noi cominciamo a mettere decreto sicurezza cominciamo a proporre leggi che non piacciono alla sinistra e in Parlamento ci impantaniamo non è questo quello che serve in questo Governo sindicale chiarissimo è questo quello che serve e concludo ripeto concludo dicendo che la sinistra già per tre volte ha dato dimostrazione di responsabilità cercando di introdurre la propaganda gender con il DDL ZAN fin dalla prima elementare cercando di legalizzare le droghe leggere e adesso regalando la cittadinanza questo è responsabile ma quanto è dai responsabili allora Gribaudo Gribaudo le chiedo una cosa invece io Gribaudo onorevole Gribaudo le chiedo io una cosa perché invece qualcuno oggi lascia intendere che ci potrebbe essere diciamo così uno scambio cioè si arriva l'approvazione della legge sulla cittadinanza in cambio della diciamo del lasciare finire nel nel dimenticatoio la questione della cannabis perché anche quella diciamo no per essere un argomento che eccita gli animi sicuramente sono non ho sentito soprattutto di quelli di sinistra che vogliono anteporre non ascolti sasso la prego onorevole sasso se dobbiamo legalizzare ascolti voi Gribaudo se vuole parlare di cose serie onorevole sasso parliamo di cose serie Gribaudo mi ascolti è vero o non è vero che è vero o non è vero che ci state che state pensando di fare questa cosa cioè di lasciare un po' da parte la questione della cannabis perché insomma tutto sommato quella la data è per persa puntando invece sulla cittadinanza non è così io sono convinta io sono convinta perché entrambe arriveranno la prossima settimana per cui sì anche se senza dubbio come dire su questo argomento mi pare che ci sia anche una consapevolezza più larga nonostante le dichiarazioni dell'onorevole sasso che mi lasciano perplessa anche perché insomma devo dire da parte di chi si occupa della scuola è davvero triste vedere che su una proposta di riforma come questa che mette la scuola al centro come una palestra proprio di formazione dei nuovi cittadini di cittadinanza di comunità vedere tutta questa sfiducia nei confronti degli insegnanti dei confronti no no certo gridavo per esempio sul DDL ZAN di cui non vogliamo parlare in questo momento però è stato lo stesso PD qualche giorno fa a dire che l'avrebbero ripresentato magari accettando appunto qualche ipotesi di modifica così come peraltro era stato detto già sei mesi fa perché si è capito che insomma così come era stata presentata non ci si arriva e forse con un'ipotesi di modifica invece ci si arriva perché si prova a fare dei passi in avanti per provare a trovare delle misure che contrastino l'odio perché noi non abbiamo bisogno in un paese già provato da una pandemia prima ovviamente con una guerra nel cuore di fatto dell'Europa se noi continuiamo a creare contrapposizioni tra i cittadini ma dove vogliamo andare noi abbiamo bisogno di dare delle risposte ai cittadini dobbiamo dare delle risposte ai cittadini ma dobbiamo anche stare nel paese reale onorevole Sasso perché qui stiamo parlando di 800 bambini e bambine 800 mila 800 mila Sasso il secondo solo 800 mila persone che in questo paese stanno a scuola nelle nostre scuole con i nostri figli e mi faccio dire questo perché l'ex sindaca per fortuna di Lodi a proposito di danno allo Stato ha creato proprio nella scuola quelle discriminazioni quando voleva ai bambini far pagare di più e creare un'ulteriore situazione diciamo di ghettizzazione mandando i bambini appunto nati in Italia ma comunque di origine straniera che doveva secondo l'ex sindaca non dovevano accedere alla messa dovevano non si capisce perché non potevano accedere all'autobus cioè tornavamo alle leggi razziali secondo l'ex sindaca di Lodi e quella scelta tra l'altro è stata condannata quindi è stato un danno proprio per i cittadini di Lodi perché vi lo ricordo onorevole Sasso noi abbiamo come nostra guida la Costituzione e noi legislatori abbiamo il dovere il dovere di creare diritti e di creare i doveri e soprattutto di rimuovere gli stessi diritti invece noi però io vorrei che lei rispondesse a me vorrei capire Gribaudo vorrei che rispondesse a me quanti compromessi siete disposti a fare scusate noi stiamo disponibili quanti compromessi siete disposti a fare perché oggi ne abbiamo già visti due possibili parlo con lei e le dico questo le dico che noi capiamo anche la situazione diciamo di difficoltà evidente con le forze politiche ed è il motivo per cui con serietà come sempre perché l'abbiamo sempre dimostrato con serietà siamo pronti a discutere non è un caso dottoressa Fratello che abbiamo rinviato la discussione però mi faccio anche dire lo voglio dire nei confronti di chi ci ascolta che il Partito Democratico aveva ben due proposte su questo argomento e noi partiamo dallo Iussoli dopodiché proprio perché i numeri contano in politica e il PD non è la forza più presente in Parlamento ci rendiamo conto che vogliamo dialogare vogliamo dialogare con chi però vuole davvero dialogare non che se ogni volta ci troviamo un muro di fronte diventa molto complicato trattare e non affrontare una modifica è sbagliato noi siamo disponibili a discutere fra un attimo devo ritornare in pubblicità però al volo c'erano alcune cose da puntualizzare intanto a proposito della criminalità l'ho vista molto sì abbastanza seccato perché l'onorevole Sasso ha dato prova in preparazione perché se il genitore della minore delinque e costituisce una minaccia per lo Stato e per l'ordine pubblico anche se quello è un cittadino italiano il padre deve essere espulso se costituisce minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato deve essere espulso queste sono le norme in Italia sono le norme però voglio dire ammettere anche lei che è più difficile se sei che c'è una famiglia non diciamoci le cose no perché la giurisprudenza è proprio chiarissima e granitica in merito non c'è dubbio che la giurisprudenza lo sia quando il cittadino straniero quando il cittadino straniero costituisce minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato deve essere espulso quindi siccome siamo qui a parlare di bambini e ci mettono in mezzo i genitori che sono stranieri invece i bambini sono cittadini italiani non confondiamo le due cose la cittadinanza è una cosa e la questione dell'immigrazione è un'altra ogni volta che facciamo confusione andiamo a minare il campo del diritto e la riforma della legge sulla cittadinanza noi stiamo parlando di minori stiamo parlando di persone che di fatto sono già cittadini italiani ed è assolutamente sbagliatissimo andare a replicare a dire che bisogna applicare delle politiche di integrazione è come se io mandassi Ibrahimovic che ha vinto 20 campionati a scuola calcio pagarlo per andare a scuola calcio e rinziare a palleggiare rapidissimo Sasso perché devo ritornare in pubblicità grazie dottoressa fratello l'avvocato Sedu si integra di più un bambino che fa 12 anni di scuola italiana o un bambino che ne fa 5? le spiego tecnicamente che cosa volete voi volete lo stesso risultato di adesso le spiego tecnicamente perché adesso proponendo ulteriori 8 anni anziché 5 anni visto che questo ragazzo inizierà dall'età di 5 anni il percorso scolastico e terminerà a 10-11 che cosa succederà? succederà che ulteriori 5 anni siamo già a 18 anni che l'attuale legge già prevede e quindi questo è un tecnicismo è una furbata perché non vale non vale l'asilo l'asilo non vale no no stiamo parlando di cicli scolastici va bene scusate è una battuta la mia fermi adesso basta adesso devo andare in pubblicità ritorniamo fra un attimo e ripartiamo dalla nostra avvocata fra un momento allora ultimo scorcio di questa puntata di questa prima parte diciamo così dedicata allo IUS scuole fra l'altro l'onorevole Gribaudo fra pochissimo ci deve lasciare credo proprio per andare a una sagra vero Gribaudo diciamo per andare a fare rappresentanza per l'appunto però è il duro mestiere del politico esatto grazie va bene allora la liberiamo però è stato molto gentile stare con noi grazie a voi buona continuazione avvocato avvocato sarah chelani lei mentre eravamo in pubblicità mi ha detto noi a casa mio papà mi parlava in italiano se mi avesse parlato in egiziano in arabo io sarei capace di parlare anche l'arabo quindi in qualche modo lei riconosce l'importanza anche della comunicazione familiare di quanto un bambino lei è arrivata giovanissima o c'è nata addirittura io sono nata in Italia mio padre no io sono immigrato di seconda generazione diciamo quindi di com'è appunto sostanzialmente lei è italiana certamente io sono italiana perché è nata in Italia cittadina italiana ma questo ma non l'ha avuto la cittadinanza finché era bambina no no l'avevo perché no sono nata in Italia da madre italiana da madre italiana appunto quindi se sua madre non fosse stata italiana lei non l'avrebbe avuta l'avrei probabilmente in base alla normativa vigente ottenuta successivamente più tardi esatto poi a 18 anni anche su questo vorrei fare un piccolo excursus perché secondo me non è così automatico in realtà secondo me noi abbiamo fino adesso fatto un pochino di confusione su che cosa stabilisca questo testo di legge adesso perché lei dice noi Fratelli d'Italia per esempio c'è un'opposizione perché ci sono delle criticità specifici ci sono delle criticità tecniche lei dice non siamo contrari in generale non c'è una preclusione una preclusione a prioristica rispetto a una norma del genere anche perché noi consideriamo Fratelli d'Italia considera assolutamente qualificante un percorso scolastico ai fini proprio dell'acquisizione di quelle che sono voglio dire le competenze più necessarie per muoversi all'interno della nazione e allora senza che appunto le definiamo bandierine che cosa secondo lei di questo testo dovrebbe essere migliorato? innanzitutto come dicevo prima i cinque anni sono verosimilmente pochi ma le spiego perché io le faccio un esempio pratico la norma deve prevedere dei paletti quindi qui si prevede che i bambini che nati in Italia da genitori stranieri o che fanno ingresso sul suolo nazionale entro il dodicesimo anno di età al compimento di cinque anni o di un percorso scolastico all'interno del sistema di istruzione nazionale o di un corso di professionalizzazione un corso professionale per il rilascio di una qualifica professionale ottenga la cittadinanza è ben verosimile che se un bambino arriva a 12 anni fa un corso triennale professionale con tutte le problematiche di mediazione culturale mediazione linguistica di cui abbiamo parlato prima non abbia non acquisisca le competenze necessarie per fare una scelta che io non o meglio per ottenere la cittadinanza in maniera consapevole lei prima mi ha parlato di volontà io non ho mai parlato di volontà rispetto ad un bambino di consapevolezza però un ragazzo che arriva a 12 anni più 5 fanno 17 ormai a 18 anni guardi non è così allora forse conviene abbassare l'età invece che allungare il tempo io direi che qui converrebbe parlarne in maniera serena all'interno di un Parlamento che abbia la possibilità di trattare il tema in maniera diciamo appunto come abbiamo detto prima serena e non litigiosa che questo tema non venga messo sull'agenda politica a fine legislatura con un Parlamento in scadenza sembra quasi e questo dispiace perché il tema è particolarmente delicato e ha bisogno di essere trattato in maniera seria messo a fine legislatura è strumentare ad una campagna elettorale che si preannuncia estremamente accesa e questo glielo dico tecnicamente avvocato che non si è mai sentito un partito che sia Fratelli d'Italia che dica sì sì è un tema importantissimo lo mettiamo al primo posto della nostra agenda appena tocca a noi perché capiamo che adesso non è il momento ma torno a ripetere Fratelli d'Italia però non si è mai sentito torno a ripetere che il ministro Giorgia Meloni ministro della gioventù propose una cosa del genere da ministro e non l'è andato dietro praticamente nessuno quindi non si possono imputare adesso basta votarla io ti ho detto ci sono delle criticità che vanno assolutamente risolte e superate per poter votare un provvedimento di questo tipo queste criticità le ho espresse in maniera anche argomentata e con riferimento insomma alla questione della legge sulla cittadinanza la 91 del 92 ci sono ancora delle problematiche che potrebbero essere risolte io non ho sentito né il PD né il Movimento 5 Stelle proporre delle modifiche molto semplici alla 91 e al 92 che consentirebbero invece l'attuale legge sulla cittadinanza non date i numeri perché chi è a casa non le sale abbiamo insomma un dovere di chiarezza nei confronti voi siete avvocati e le sapete la legge sulla cittadinanza attualmente in vigore prevede al compimento del diciottesimo anno di età la dieci anni di residenza stabile all'interno del territorio nazionale e anche il criterio reddituale ne parlava prima l'onorevole Sassu esatto quindi non è automatico per i nati in Italia criterio della residenzialità è stato risolto con normative successive perché basta provare la presenza sul suolo nazionale così come è risolto il problema del criterio reddituale perché non è necessario ok per i non nati in Italia uno come anche uno che è arrivato a tre anni arrivato al diciottesimo anno di età deve avere la capienza reddituale che comincia ad essere un problema tre anni di CUD che abbia la capienza dell'assegno sociale sostanzialmente è del tutto evidente che un ragazzino che studia questo requisito non lo può portare appunto perché il partito democratico non mi dice eliminiamo questa che è una barriera secondo lei Fratelli d'Italia lo voterebbe subito sono un tecnico sono parte dell'ufficio studi di Fratelli d'Italia non porto la posizione politica la posizione tecnica le dico che questa è una vergogna e se si avessero a cuore le sorti dei giovani tanti giovani che stanno sul suolo nazionale che sono sostanzialmente italiani perché qui hanno vissuto e studiato e hanno acquisito la nostra cultura eliminare quella barriera quello sì che sarebbe ci sarebbe già un passo avanti allora onorevole Sasso vengo a lei siamo quasi in chiusura dicevo in questa parte e ho un paio di domande ancora da farle intanto perché oggi per esempio sulla stampa che è quel giornale che ha dato diciamo più risalto per l'appunto a questa posizione della CEI con l'intervista eccetera eccetera c'è anche una nota di Sorgi di Marcello Sorgi che dice sostanzialmente che Salvini secondo lui questa storia della cittadinanza la USA per tenersi un pretesto di eventuale rottura del governo quindi diciamo come se non fosse poi realmente interessato lei che cosa ci risponde su questo? No guardi non è così semplicemente quando si è formato il governo di unità nazionale c'è stato un patto tra i partiti mettiamo da parte le battaglie di bandiera usciamo dal covid purtroppo poi è scoppiata la guerra in Ucraina e ci troviamo come governo di unità nazionale ad affrontare le conseguenze nefaste soprattutto per noi italiani di questo conflitto nel momento in cui una parte della maggioranza porta delle proposte che noi riteniamo divisive è chiaro che e poi soprattutto in termini pratici noi occuperemo il tempo che dovremmo impiegare peraltro su questi temi quindi c'è uno scontro in questo momento tra la sinistra che antepone legittimamente una propria battaglia di bandiera anteponendo agli interessi degli italiani i desideri dei migrati e c'è la Lega e c'è il centrodestra di governo che invece antepone le problematiche degli italiani è chiaro che se la Lega domani le faccio un esempio dottoressa Fratello presentasse un decreto sicurezza o un qualcosa legato alla legittima difesa o qualsiasi altra battaglia che fa parte o la stabilizzazione dei precari della scuola per rimanere in tema di battaglie di bandiera che purtroppo la sinistra e i Cinque Stelle hanno osteggiato per due anni è chiaro che ci sarebbero delle fibrillazioni quindi è chiaro ed evidente che in questo momento il Presidente del Consiglio deve fare da garante perché così come si preoccupa di telefonare a Giuseppe Conte per tranquillizzarlo su questioni di carattere personale allo stesso modo dovrebbe tranquillizzare noi che siamo il primo partito all'interno delle Camere ma non su problemi personali di Salvini ma su problemi che riguardano milioni di italiani mi scusi sottosegretario Sasso il governo per bocca di Draghi sostanzialmente si è tirato fuori da queste questioni ha detto è una questione parlamentare se ne occupa il Parlamento e il governo non si è voluto pronunciare su questo quindi è un modo per dire vedetevela voi in Parlamento non siete in grado di vedervela voi in Parlamento avete bisogno dell'appoggio della tutela del governo il Presidente del Consiglio rappresenta in questo momento tutti i partiti che compongono la maggioranza ed è suo interesse ed è interesse di tutti gli italiani avere una maggioranza che non vada in fibrillazione a 7-8 mesi dalla scadenza di questo mandato guardi mentre parlavamo mi è arrivata una notizia perché poi ci si lamenta che il Parlamento viene esautorato della propria autonomia della propria indipendenza questo è vero ma ci sono questioni di priorità nazionale mi dispiace per Monsignor Perego ma regalando la cittadinanza noi non risolveremo un problema guardi mi è arrivato forse ce l'ha anche lei sulle agenzie proprio nelle ultime ore grazie alle forze dell'ordine è stata sgominata l'ennesima baby gang ma non al nord non a Peschiera del Garda dove l'orgoglio africano su TikTok voleva stuprare una ragazzina ma a Palermo dove questo è un problema immaginate per un momento che questa proposta che tanto piace all'avvocato Sedu fosse legge in questo momento noi avremmo dei minorenni che non potrebbero essere una volta maggiorenni più espulsi il problema è questo potenzialmente le capacità di inclusione potenzialmente io sono il primo a dire che è sempre lei è stato quello che prima ha sostenuto che in Italia esiste lo YouSoli e le dico che lo YouSoli in Italia non esiste e anche su questo lei purtroppo devo dire che è preparato glielo dico sono disponibilissimo a incontrare l'avvocato Sedu a parlare con i colleghi per potenziare ad esempio la nostra capacità di includere i bambini minori perché 5 anni di scuola elementare sa perché non bastano e lei prima non mi ha risposto perché invece 12-13 anni di scuola lei mi parla di YouSoli che esiste lo YouSoli in Italia se mi dice una cosa del genere allora tutti gli italiani penseranno che veramente esiste lo YouSoli però se vi parlate uno sopra l'altro non funziona avvocato grazie lei invito a girare con me le scuole delle periferie dei grandi centri urbani laddove in prima seconda terza elementare sono su 25-26 bambini 20 sono stranieri che hanno cresciuto in quelle periferie potenziamo ecco potenziamo la capacità dei mediatori culturali potenziamo diminuiamo il numero di bambini per classe questo la sinistra non l'ha voluto fare io sono disponibilissimo ho fatto l'insegnante ho avuto tanti bambini minori stranieri e li ho accolti con amore smettiamola di dare come dire visioni che sono distorte chi è in Italia e si integra e accetta i nostri valori è benvenuto ma lo dobbiamo integrare non dobbiamo avere fretta di regalare qualcosa che invece deve esistere come l'avvenuta certificazione è un riconoscimento non è il motivo non abbiamo fretta dopodiché le segnalo che uno per esempio come Cabilame che se la regia fra l'altro può mostrarci l'intervista su Repubblica qualche giorno fa probabilmente lo conoscerete perché ha ben 142 milioni di eccolo qua di follower su Twitter credo che tutti lo conoscono questo ragazzo fantastico originario del Senegal è arrivato quando aveva un anno adesso ha 22 anni e ancora la cittadinanza non ce l'ha per l'appunto ha ricevuto diciamo così quando è stato incoronato re di TikTok un tweet dal sottosegretario che gli diceva sì insomma aspetta perché ti arriverà però nel frattempo ancora non c'è per dire le follie comunque lui è simpaticissimo ma per un bravo ragazzo non è che uno deve avere la cittadinanza perché è simpatico però deve essere una cosa a diritto non a simpatia avere la bontà di farmi finire soggetto predicato complemento oggetto a fronte di uno che è bravissimo che sta su TikTok vada su TikTok e digiti Arabzone sono quelli che sono stati arrestati a Palermo perché rapinavano stupravano e spacciavano quindi va potenziato l'apparato amministrativo a che al 18esimo anno lei sta facendo un'etnicizzazione dei reati i reati vengono commessi dagli italiani autoctoni i reati vengono commessi da chiunque quindi l'etnicizzazione del reato è qualcosa effettivamente di razzista glielo debo dire l'etnicizzazione del reato è il razzismo puro e glielo dico perché lei sta facendo una serie di confusioni e lei addirittura ci è venuta a dire a tutti gli italiani in questo momento che in Italia esiste lo Jussoli quindi per favore quando si va in televisione bisogna essere preparati altrimenti si fa altro per favore avvocato passi l'articolo 9 della legge no no non è così innanzitutto sarebbe l'articolo 4 e quindi anche in questo lei è in preparato non c'è anche in questo lei è in preparato avvocato faccia parte della sua professione no non c'è lo Jussoli in Italia non esiste Jussoli chiariamolo a tutti gli italiani assolutamente posso su questo punto scusate una piccola chiosa per chiarezza per dovere di chiarezza in Italia non esiste lo Jussoli ma amen esatto amen esatto ma non esiste continuerà a non esistere prego continuerà a non esistere questa è la posizione di una persona che vuole all'interno del Parlamento trovare una linea media ma lo Jussoli non esiste neanche negli altri stati membri non esiste questo per dire negli Stati Uniti perché l'Europa lo Jussoli non esiste è una regola che ha evidentemente delle origini legate alla nascita degli Stati Uniti perché se no se era legata al sangue erano cittadini americani solo i nativi cioè no ecco quindi è evidente che le norme sono anche legate alle contingenze storiche politiche quindi si spiegano anche in questo modo fermiamoci qui perché tanto ci ritorneremo perché fra una settimana appunto la legge arriva in aula e vedremo che cosa succede professoressa Santerini un'ultimissima domanda però per lei perché lei diceva già li vediamo gli effetti no sulle seconde generazioni la seconda generazione che però questa diciamo così valutazione non sempre è lineare nel senso che in Francia ad esempio no ci sono comunque sempre state molte tensioni noi abbiamo sempre fatti i paragoni con la Francia dicendo ah ma allora vedete però in Francia la cittadinanza magari ce l'hanno però l'integrazione comunque non avviene ecco come la risolviamo questo nodo ma il problema non è che abbiamo integrato troppo ma è che abbiamo integrato troppo poco ok questo è il problema sia in Francia che in altri paesi cioè intanto la cittadinanza non è un premio non è un regalo è il riconoscimento di un'appartenenza e di un progetto di voler stare il dovere della politica è quello di unire non di dividere non di incitare all'odio di etnicizzare i problemi e di dire dividere tra noi e loro è di trovare le soluzioni ve lo chiediamo proprio vi chiediamo la soluzione per unire la società italiana ecco quindi è chiaro che esistono i rischi sociali in questo momento noi abbiamo un'emergenza adolescenti enorme ma non solo tra i ragazzi di origine immigrata anche tra gli italiani abbiamo baby gang di stranieri abbiamo baby gang che stuprano a capodanno fatti dai ragazzini italiani italianissimi di ottima famiglia certo abbiamo un'emergenza giovani abbiamo un'emergenza adolescenti allora di fronte a queste discussioni io dico uno dei modi che abbiamo di creare una società più coesa più unita che non incita all'odio noi contro loro questi sono degli invasori questi sono dei delinquenti è quello di cominciare a dare la cittadinanza e quindi dare una spinta in più a questi bambini e a queste famiglie per essere come già di fatto sono italiani non tiriamo in ballo si fermi qui perché dobbiamo lasciare adesso lo spazio alla pubblicità ripeto tanto torneremo a parlare di questi temi di questi argomenti sarà un luglio caldo sicuramente da questo punto di vista speriamo non meteorologico speriamo che il vento africano si si plachi un po' e intanto pubblicità e poi vi aspetto invece per una seconda parte per parlare di quello che sta accadendo in Ucraina in un'iniziativa molto speciale molto particolare che parte proprio dall'Italia verso l'Ucraina a dopo 9 e 22 allora l'ultima parte di questo omnibus domenicale lo dedichiamo a un'altra iniziativa che avverrà la prossima settimana e che vede coinvolti circa 150 attivisti 150 persone che arriveranno la sera del 10 di luglio a Kiev per poi essere presenti appunto in giornata nel giorno dell'11 di luglio nella capitale ucraina fra di loro ci sarà Marco Bentivogli che è il coordinatore di base Italia buongiorno Bentivogli buongiorno buongiorno a tutti sarete 150 perché il numero è contingentato giusto perché più di un certo numero di persone non possono andare in rappresentanza di non so quante associazioni mi sembra di aver capito giusto ma sì questa è un'iniziativa innanzitutto di quella che una volta si chiamava società civile cioè di tutti i mondi vitali spesso non visibili anche molto piccoli che però messi insieme sono una straordinaria forza sono circa 35 associazioni italiane che hanno costruito soprattutto anche grazie al lavoro di Angelo Moretti come capacità di integrazione un ponte non solo tra di loro ma anche con la società civile ucraina il grande problema è proprio l'assenza della costruzione della pace attraverso la capacità dei popoli di mettersi insieme noi possiamo immaginare che i governi possano avere un ruolo devono assolutamente avere un ruolo per il cessate il fuoco e la costruzione della pace che non sia una resa ma gli obiettivi più solidi e più irreversibili di una pace duratura si ottengono se le persone si uniscono se le persone a prescindere dai loro governi costruiscono un ponte di società civile e per questo appunto dal 10 fino all'11 mattina ci sarà questa iniziativa che sarà sostanzialmente un incontro proprio insieme alle associazioni ucraine e per costruire anche come si va avanti noi non immaginiamo che ci sia una pace in brevissimo termine bisogna assolutamente mettere insieme i popoli il primo risultato è stato di straordinaria importanza che è il nome con cui abbiamo federato quelli che Alex Langer avrebbe chiamato i corpi civili di pace è riuscito a ottenere insieme a Act for Ukraine l'arrivo di circa 80 bambini in Italia che sono stati ospitati da 15 piccoli comuni per passare l'estate lontano dalle bombe dalla disperazione è una cosa straordinaria e nobilissima e però io le voglio leggere quello che scriveva ieri Alfonso Berardinelli sul foglio a un certo punto parlando dell'impossibile pace e delle nostre pigrizie mentali dice da noi credo che si parli di pace soprattutto per sbrigarsela a buon mercato senza dire né pensare nient'altro che l'impossibile pace è una nobilissima impossibilità come dire sostanzialmente qui alla fine ci sarà bisognerà arrivare a una soluzione e la soluzione sembra di capire non può passare attraverso una pace che ha più il sapore di una resa raccontata da Kiev e invocata da Kiev che cosa c'è di diverso se c'è rispetto all'impostazione che gli dà Berardinelli perché lei parla di pace andandola a chiedere a Kiev e non a Mosca ma innanzitutto perché questa iniziativa è in raccordo con le associazioni che con grande difficoltà in Russia dissentono da quello che qui chiamiamo autocrazia ma è un regime dittatoriale quello di Putin un luogo dove per un post su Facebook si può finire in galera è tutto tranne che una democrazia condividiamo che la pace non può essere una rese contemporaneamente serve attivismo c'è un pezzo di pacifismo italiano che ha fatto tutte le loro dimostranze attraverso vecchie stelle dei talk show appunto dentro la televisione senza costruire nessuna iniziativa reale di partecipazione presenza è certo che per noi bisogna parlare con la Russia c'è un compito però che va affidato ai governi c'è un compito altrettanto importante che va affidato alle persone alla capacità alla rappresentanza alla capacità di mettersi insieme noi non siamo i pacifisti da divano ci sono stati troppi noi ci siamo alzati noi ci alziamo andiamo lì e parliamo diciamo tessiamo reti con la società civile ucraina e mi sembra di aver capito quindi anche con qualche attivista russo che siete riusciti a contattare giusto? ma esattamente la vera forza di questa iniziativa con rispetto parlando è che fino adesso siamo stati anche tutti quanti molto operosi da marzo si lavora per costruire ci sono riunioni quotidiane da marzo si lavora per costruire questa mobilitazione lo abbiamo fatto lontano dalle telecamere dai grandi giornali adesso ovviamente a ridosso dell'iniziativa pensiamo che sia giusto comunicarla comunicarla con questo stile e soprattutto far capire che non ci sono cioè ci sono state anche molte passerelle di selfie con il presidente ucraino ecco questo è un tentativo più robusto soprattutto perché lo dico anche a Belardinelli perché voi non incontrerete Zelensky non è previsto noi incontreremo l'innunzio apostolico il sindaco di Kiev e quello che è più importante lo ripeto tantissime associazioni ucraine e nel nostro documento continuiamo a ribadire che noi non costruiamo nulla di alternativo a ciò che il popolo ucraino nel legittimo diritto di costruzione della propria autodeterminazione anche attraverso la resistenza costruiamo una cosa in parallelo rispetto a quello che il popolo ucraino democraticamente ha scelto attraverso il suo governo e attraverso la resistenza a quella che è un'aggressione armata russa per cui non è la solita iniziativa non neutralista che come spesso nasconde un sentimento anti americano è esattamente tutt'altro è il fatto che a prescindere dai governi a prescindere da tutto ciò che è accaduto bisogna ritornare a mettere insieme le persone ma questo va fatto dentro un sentimento la sua risposta a Bellardinelli quindi è che non c'è questa pigrizia di cui lui parla lei mi sembra di capire la rigetta beh insomma ci saranno diverse ore e ore di pullman come sa non si arriva non si arriva a Kiev facilmente sarà una cosa impegnativa per molte persone e questo deve far riflettere già il fatto che questo ponte sta costruendo elementi di assistenza e di solidarietà per qualcuno può non essere importante dare a 80 bambini un po' di respiro rispetto a quella situazione terribile vi assicuro che assolutamente quello che ci chiedono tutte le cose sono state costruite in ascolto con la società civile ucraina con quelle che erano le loro richieste nessuno lo ha fatto per cui questo progetto MIN ha assolutamente questa novità in secondo luogo ovviamente questo è un passo per costruire una mobilitazione europea noi accanto al voto che c'è stato di accoglienza come candidato all'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina bisogna costruire il raccordo tra i popoli noi dobbiamo rafforzare l'Europa per noi l'Europa è un sogno per fare che cosa cioè quando lei dice bisogna costruire un raccordo tra i popoli che cosa significa perché comunque da quello che abbiamo visto finora comunque l'accoglienza c'è stata poi ogni paese ha sensibilità più o meno diciamo spiccate da noi diciamo che c'è stata una certa rilevanza anche di chi sostanzialmente ha detto no insomma ha riconosciuto poco o con una certa fatica le ragioni dell'Ucraina però detto questo l'Europa in generale per esempio è stata decisamente accogliente nei confronti della popolazione ucraina qual è il salto in più che voi cercate? ma il salto in più è quello che diceva Giorgio Lapira la pace e duratura si costruisce il raccordo tra le persone non solo tra i governi il raccordo tra le città se noi costruiamo e rafforziamo il nostro progetto europeo e cioè quello che ha garantito parecchi decenni di pace in Europa e che deve essere ancora considerato un baluardo nei confronti di qualsiasi tentazione di qualsiasi governo di risolvere i conflitti con le armi e questo lo possiamo fare solo iniziare riniziando a far parlare i popoli far parlare le persone attraverso i loro corpi sociali organizzati e questo è quanto di più importante e per questo serve sempre far raccordare le associazioni questo è un tema importantissimo perché molto spesso sono micro associazioni di base che sono molto più radicate spesso anche dell'associazionismo storico ma che raccolgono veramente i bisogni delle persone per questo bisogna ogni tanto io credo aprire le orecchie ascoltare e soprattutto unire queste istanze da loro sono venute inchieste che non ho mai letto il suo passato da sindacalista che tenta tenta comunque una mediazione con chiunque mi dice che ma no credo che il dialogo sia fondamentale non solo tra i governi non volevo non volevo sminuirne diciamo così la portata anzi però sono curiosa di capire per esempio perché lei prima aveva detto noi abbiamo contatti anche con qualche dissidente russo con la società civile russa che cosa vi siete detti e come contate di operare anche lì ma lì questo passo l'undici mattina sarà un'occasione per discutere anche cosa si fa in quel versante a stretto contatto con le associazioni con cui si parla vi assicuro che il dialogo con le associazioni russe è quello più difficile perché dallo scoppio della guerra le manifestazioni che sono state costruite sono state spontanee ma sono state represse con grandissima durezza e per cui bisogna muoversi nella modalità che evita ulteriori esposizioni ma che costruisce in qualche modo quello che con troppa retorica si definisce un ponte tra i popoli ma è veramente quello di cui c'è bisogno se noi non ritorniamo alle persone si va veramente poco lontano qui e credo che questo sia l'elemento più importante bisogna rifar parlare le organizzazioni dei lavoratori le associazioni che si occupano di impegno civile e sociale abbiamo una situazione pensate una parte di questo progetto si sta occupando anche delle persone con disabilità mentali pensate a quello che può accadere a persone in generale con disabilità dal momento in cui scoppia una guerra sono gli ultimi spesso e gli ultimi che vengono in poche ore dimenticate da tutti pensate senza la costruzione di un sostegno di assistenza certo però questo sembra rientrare più la discussione come dire nell'ambito delle iniziative umanitarie che sono straordinarie che sono fondamentali indispensabili ma per le quali forse sono io limitata ma non riesco a vedere l'orizzonte della pace più vicino mi sembrano cose ripeto importanti che danno sollievo danno aiuto alla popolazione ma non so quanto poi possono aiutare appunto il percorso di pace mi faccia capire come pensate di arrivarci mi aiuti a capirlo ma in realtà se ci pensiamo è invece proprio questa la vera scommessa noi abbiamo costruito un'Europa mettendo insieme le elite una parte polarizzata di tutti i popoli se iniziamo a mettere insieme invece le parti più esposte ricostruiamo l'Europa proprio dai soggetti deboli e soprattutto da chi ogni giorno ogni mattina si sveglia e lavora proprio su interventi di protagonismo sociale di lotta alle marginalità che costruiamo l'Europa noi dobbiamo costruire una domanda sociale europea al di là delle spinte corporative perché sappiamo dietro l'angolo esistono dentro invece l'Europa delle forze molto spesso finanziate da Putin dalla Cina dalle autocrazie che sostengono che tutto ciò che è integrazione è esattamente il nemico dei popoli vedete come già si rinizia di nuovo a attaccare l'Europa come un elemento di riscatto e di coesione e invece come una matrigna che ci obbliga a dei vincoli che in realtà farebbero tantissimo bene anche al nostro paese ecco proprio per superare questo balletto di speculazione anti-europea e anche al dibattito un po' banale che c'è stato in Italia tra pacifisti e guerrafondai così è stato liquidato bisogna assolutamente ritornare a muovere le persone quando in Italia un piccolo comune fuori da qualsiasi visibilità accoglie dei bambini che arrivano dall'Ucraina la prima cosa che fa è li ascolta ascolta quello che hanno vissuto ascolta quello che hanno perso e questo significa un po' capire che la guerra non è una cosa così televisiva da guardare con pigrizia dal divano molti in Italia si sono addirittura infastiditi dalla resistenza ucraina pensando che in fondo questa gli può creare un problema per il loro benessere perché non si arrendono perché Zelensky non fa arrendere il suo popolo è stato proprio detto è stato detto chiaramente e oltre a ascoltare Zelensky oltre a ascoltare Zelensky proviamo ad ascoltare anche le persone non coinvolte direttamente in incarichi istituzionali di partito di governo e sentirete quanto la guerra fa male quanto il disegno di Putin va assolutamente battuto con la costruzione di una pace duratura per noi questa pace si chiama Europa si chiama riprendere il sogno fondativo di un continente che punta sulla coesione sociale sul progresso ma lo fa soprattutto con la pace che è un valore da costruire quotidianamente e quello che vogliamo affermare è che la vera pace e quella duratura la costruiscono i popoli la costruisce la società civile con la capacità di ritrovarsi ma quindi lei per chiudere Bentivogli se dovesse definire questa iniziativa che poi non è una marcia giusto perché poi alla fine non sarà o c'è anche la parte di marcia a Kiev all'aperto questo non mi è chiarissimo noi abbiamo costruito tutte le iniziative il raccordo con le regole che in Ucraina ci si è dati e con grande rispetto delle regole per cui ce ne sono già troppi che vanno in Ucraina per la loro visibilità noi invece costruiamo una cosa con tanta sostanza non sarete per strada con le bandiere questo sostanzialmente mi sta dicendo no ci sono sicuramente c'è un momento in cui di visibilità dell'iniziativa per cui c'è ma il cuore dell'iniziativa sarà l'incontro sarà l'incontro tra tutte le associazioni italiane ed ucraine perfetto e quindi lei come la definirebbe perché appunto noi siamo un paese un po' bizzarro dove in realtà vengono i coloro che vogliono la resa dell'Ucraina vengono chiamati pacifisti mentre invece chi dice che l'Ucraina non dovrebbe soccombere all'occupazione russa viene chiamato guerra fondaio quindi una strana ribaltamento del senso delle parole lei come si definirebbe a questo punto? Ma io ricordo quello che diceva Munier dopo la prima guerra mondiale lo scontro non può essere tra guerra fondai e i sognatori di una pace che sa di resa di un popolo e i corpi civili di pace se ci pensate era un'intuizione del grande Alexander Langer hanno proprio questo ruolo costruire una pace che sia di riscatto e che rispetti la decisione del popolo ucraino di resistere a questa aggressione e per questo bisogna assolutamente essere lì essere protagonisti cercare anzi soprattutto di costruire la pace su un terreno di consenso diffuso ampio per cui quello che è accaduto in Russia è veramente il segno l'ultimo sintomo dopo la pandemia di un'architettura economico e sociale che inizia a avere qualche difficoltà e che solo le persone unendosi possono costruire in modo più efficace e migliore va bene allora io le auguro buon viaggio poi magari quando sarete tornati ci racconterete com'è andata che cosa vi hanno raccontato appunto queste associazioni ucraine intanto io mi fermo qui ringrazio chi ci ha seguito e chi ci ha permesso di andare in onda e vi auguro una buona domenica e vi auguro e vi auguro vi auguro vi auguro Grazie a tutti.